Con le belle giornate e l'arrivo della primavera ritornano sul litorale cilentano e precisamente ad Agropoli anche le alghe. Sono anni che la cittadina agropolese, protagonista di enormi quantità di posidonia spiaggiata che purtroppo finisce per essere accantonata sulla renile della spiaggetta storica della cittadina agropolese e da alcuni anni anche nella località Lido Azzurro. L'amministrazione comunale si sta adoperando per arginare la problematica cercando di smaltire il rifiuto organico. Nel momento l'unica soluzione è quella dello smaltimento che cercheremo di fare se non arrivano novità, se non arrivano altri interventi, finanziamenti regionali perché abbiamo anche avuto dei colloqui con Bonavitacola, vicepresidente della regione che potrebbe anche finanziare una tandem degli smaltimenti della posidonia. Se non arrivano finanziamenti noi ci occuperemo di fare lo smaltimento necessario per rendere le spiagge praticabili come abbiamo fatto d'altra parte lo scorso anno. Nel continuo ancora studio sulla soluzione definitiva che anche qui ci sono stati fatti dei passi in avanti. La problematica ormai non è una problematica vissuta solo nella città di Agropoli ma anche ha ricevuto una rilevanza nazionale, un'attenzione di carattere nazionale da parlamentari che ha affrontato questo problema anche in maniera decisa. Quindi ci auguriamo veramente che ci muova nella giusta direzione per risolvere il problema in maniera definitiva. Ma l'impegno che abbiamo iniziato a noi è comunque rendere le spiagge fruibili al meglio delle nostre possibilità.